Mamme senza festa in Ucraina, costrette a lasciare i mariti al fronte e fuggire lontano con i loro bambini. Una ricorrenza, quella della festa della mamma, che ricade in un momento particolare. Il pensiero dell'editore, del direttore, dello staff giornalistico e tecnico va alle donne ucraine, unito ad un messaggio di speranza e di pace. Anche il sindaco di Bari, Antonio De Carro, presidente del Lancia, ha voluto rivolgere un suo pensiero. Oggi un pensiero speciale va a tutte le madri, quelle costrette a lasciare la propria casa per salvare i propri figli dalla guerra. Quelle che restano lì sotto le bombe per accudire i figli di tutti e costruire la pace. E quelle che oggi vivono qui con noi nella speranza di potersi ricongiungere presto le loro famiglie nelle loro case. Questo è il messaggio del sindaco di Bari, Antonio De Carro, in occasione della festa della mamma.